allora qua vi facciamo vedere come utilizziamo questo tipo di colla che molta gente la compra per aggiustare la carrozzeria in realtà nel modellismo si usa molto di più per attaccare i rinforzi sia questi di carbonio che quelli di plastica è indifferente la proprietà di questa colla è che rimane morbida però ha un grip esagerato quindi non si stacca ma rimanendo morbida anche durante gli urti non permette al rinforzo di venire via cosa che invece con quelle colle a caldo con la pistolina crepano perché ovviamente sono rigide e si spezzano carrozzeria tagliata carrozzeria iniziata da appena un genio allora cosa migliore è avere un biadesivo di quelli buoni questo è uno dei migliori perché è morbido prendete la misura lo attaccate bene non c'è bisogno di sgrassare però senza musica fa schifo bene ecco lo rifilate poi fate le prove questi qua vengono fatti i pezzi di carbonio sono 6 quelli che veniamo noi due vanno messi qua due vanno messi qua e i due lunghi qua di dietro prima di cominciare ad attaccarlo prendeteci bene le misure cercate di capire dove lo volete mettere maniera da non fare degli sbagli poi quindi questa qua è la sua posizione se proprio avete dei problemi prendete un lampo stile poi segnate penso che sia il problema dunque l'ampo stile non ce l'ho quindi non segniamo un cazzo allora vai stacchiamo cosa sono quei sospiri sei già stanco questo per starnutire non mi viene allora ecco una volta tolto prendete lo posizionate qua le soluzioni sono due o mettiamo il rivetto quindi foriamo oppure personalmente preferisco fare così prendete la colla senza esagerare allora questa colla qua in commercio ci sono delle ditte che le rendono 25 euro pura follia bene questo punto ho lasciato voi attaccate tutti qua qua i sei e lo date solo da questa parte aspettate 4-5 ore poi sdraiate la macchinina in questo modo e lo date io adesso lo faccio velocemente con uno non è un problema ma se ne avete sei dopo la colla vi colla poi giù ecco benissimo questo avete la certezza che non si stacca più se poi volete fare una cosa fatta meglio ancora alla fine ci mettete pure un pezzo di nastro di quello diciamo argentato telato in maniera che così tiene non è un problema anzi funziona molto bene perché questa colla adesso faremo il filmato successivamente se andremo a passare 8-9 ore vedrete che si è depositata ed è morbida perfetto risultato finale dopo 8 ore come potete vedere è perfettamente bloccato ciao ho ho Grazie a tutti.